Una tragedia senza una spiegazione, solo l'autopsia dirà perché la studentessa di 14 anni è morta. Così, lasciando tutti attoniti. C'è una comunità intera sotto shock. Levile Monterchi si è risvegliata con questo dramma. La ragazzina, di origine rumena, stava per iniziare la sua lezione a distanza. Frequentava, con ottimi risultati, la prima ragioneria dell'Istituto Pacioli di Sansepolcro. La mamma lavora presso una famiglia a poca distanza dalla abitazione. Erano da poco, passate le otto, la madre ha iniziato a chiamare la ragazza, forse per sollecitarla a non fare tardi con il collegamento. Più volte il telefono ha suonato, ma la donna non ha ricevuto nessuna risposta. In quel momento la signora era impegnata nella sua opera di assistenza. A vedere perché la figlioletta non rispondeva è andato il titolare dove lavora la mamma. E' stato lui a fare la macaba, la scoperta. Comprensibile lo shock. Subito sono stati avvisati i carabinieri e il medico del paese che ha constatato la morte della ragazza. Si parla di un possibile onorisma. Il corpo è stato ricomposto e poi trasferito a Montevarchi dove verrà fatta l'autopsia per capire l'origine di questa tragedia. Resta un enorme senso di vuoto per questa grande disgrazia che ha scosso una comunità.